Un altro film di cui vi voglio parlare è Watcher, che non è The Watcher la serie, che potete anche tranquillamente dimenticare, ma tanto l'avrete già fatto. Film del 2022, anche questo, non è 31, diretto da Chloe Okuno. Chloe Okuno, che prima di questo film non aveva girato nessun lungometraggio, quindi questo è proprio il suo film d'esordio. Avrete notato Maika Morrow, che è un'attrice che ha già fatto degli horror, molto bella, ma anche ha una bellezza molto particolare, strana, che sta molto bene in video, secondo me. Purtroppo anche questo film l'ho visto in italiano, quindi un film dove la recitazione è molto molto, come dire, leggera e quindi le sfumature stanno nel tono della voce, per cui, a parte alcune parti più dinamiche in cui effettivamente si può vedere l'interpretazione corporea, espressiva, per cui dove c'è un po' più di... Però ecco, mi sarebbe piaciuto, visto che ci sono tanti dialoghi, che sentire la voce degli attori veri, ma purtroppo non ho potuto, perché l'edizione a noleggio non aveva l'audio in inglese, quindi l'audio originale. Il film è una coproduzione arabo, Arabia Saudita, Stati Uniti, Romania, è ambientato in Romania, lui è il fidanzato, lei è la fidanzata, lui deve andare in Romania a lavorare, perché ha avuto un'offerta di lavoro, e lei molla la sua carriera di attrice, probabilmente, da quello che si intuisce, non avviata ancora, e smette di fumare, quindi va e fa questa scelta di praticamente parcheggiarsi, non a casa, mentre lui lavora. Ha un bel po' di problemi, perché comunque, a livello psicologico, immaginatevi di prendere e andare in Romania, con il vostro fidanzato, barra fidanzata, lui lavora, voi non avete un pezzo da fare tutto il giorno, e siete in questo palazzo, dove a un certo punto, vi rendete conto che c'è una persona, che vi fissa, sempre fissa, vi fissa fissa, dalla finestra, e siete comunque una bella donna, eccetera eccetera. Poi iniziano a girare queste notizie, di un serial killer, che sta uccidendo delle donne, eccetera, quindi questa idea, presa dal telegiornale, inculcata nella testa della protagonista, insieme a questo stalker, che guarda dalla finestra, inizia a crearsi una grande angoscia, nella protagonista, e, insomma, poi il tarlo non gli va più via, non gli va più via al punto che, inizia a cercare di capire, se questa persona la sta seguendo, fino al punto in cui, sarà lei a seguire questa persona, per vedere se la sta seguendo, ma a quel punto, come diceva, anche Tom, sembra la stalker di uno stalker, esattamente, il gioco nel film è meraviglioso, secondo me, è veramente stupendo, questo gioco di inseguimenti, tra stalker e stalkerata, e stalkerata, che diventa stalker dello stalker, e, a un certo punto, non capiremo più niente, non capiremo se lei si è inventata tutto, se lo stalker è vero, e ci sono, insomma, sarà, è un thrillerone, e sa giocare, con lo spettatore molto bene, non solo appunto, creando tantissimi indizi, per cui poi, un indizio ti porta da una parte, un altro ti svia da un'altra parte, ma, ci saranno tantissime, situazioni in cui, la regista, giocherà con lo spettatore, sul non guardare, questo è volentieri, lei, e la telecamera, si comporteranno nello stesso modo, cioè la telecamera, induggerà, induggerà, verso, lo stalker, quindi non, la telecamera non si volterà, si fermerà prima, quasi come lo sguardo impaurito di lei, c'è la paura di guardare, lo stalker, è rappresentata estremamente bene, anche dai movimenti di macchina, che sembrano, interpretare, la paura anche, dello spettatore, come se fosse, lì all'interno della scena, e anche lo spettatore, avesse paura, di incrociare lo sguardo, con lo stalker, veramente, una marea di scene, fatte così, stupende, in cui, proprio vediamo, lei che non alza lo sguardo, lei che ha paura, di voltarsi, al cinema, tantissimi piccoli, momenti come questi, divertentissimi, in più, il film, poi regalerà, un finale, bello, acceso, dinamico, divertente, bello, secco, pulito, come piace a me, quello che, a parte, veramente, una bellissima regia, soprattutto, per una persona, all'esordio, una regia, veramente figa, veramente figa, molto bella, nelle inquadrature, nella composizione, nei pesi, nella fotografia, che è, veramente sublime, una fotografia sublime, ed emozionante, che, secondo me, carica anche, proprio, emotivamente, alcune scene, di maggiore intensità, proprio perché, sono, proprio, intense, nei colori, intense, nel, nel come viene rappresentato, quando uno è, molto legato, come me, agli aspetti, visivi, e, cinematografici, quindi, il linguaggio, linguaggio, quindi, io ti racconto cose, tramite, un movimento di macchina, una scelta, un'inquadratura, una, una, una sequenza, io ti racconto altro, o, il rinforzo, il racconto, o, comunque, in qualche maniera, uso, questi strumenti, come linguaggio cinematografico, io, divento matto, cioè, a me piace, un casino. spero che, che abbiate percepito, la bellezza, quanto meno, quanto meno estetica, un film che, secondo me, merita, merita tanto, da vedere, non so se, vi ho detto tutto, il film gioca, sulla protagonista, la protagonista, arriva già, che ha già perso, cioè, arriva, che ha mollato il suo lavoro, ha smesso di fumare, quindi è sicuramente più nervosa di prima, è in un paese straniero, dove non capisce una sega, anche se sta, durante il film, lei imparerà un po' più di rumeno, perché gli gira il culo, di non capire cosa dice la gente, però subisce, la solitudine, l'isolamento sociale, e quindi vive, vive, un momento di altissimo stress, e quindi poi, l'ossessione, fa la breccia, l'ossessione, lo stalker che guarda la finestra, il notiziario, con il fantomatico, che è un fantomatico, perché c'è effettivamente, un serial killer, che sta uccidendo, le mettono in testa, questo tarlo, e ovviamente poi, il gioco è tutto capire, se lei è pazza o no, e ovviamente, il fidanzato, non le crede, o le crede, e poi non le crede, le crede, non le crede, e questo fa parte un po' di tutto il gioco del film, proprio per essere divertente, anche per lo spettatore, è fatto di diversi twist, che rendono proprio, avvincente la cosa, i twist sono, diciamo, percorsi narrativi, che ti portano a credere, che una cosa sia così, che poi è un'altra, questo è pieno, nei thriller, è pieno zeppo di queste cose, ma non le percepiamo, mi ha fatto specie, che il film, non ha particolari, jump scare, se non uno, mi sembra, c'è una situazione di tensione, questo non è uno spoiler, perché non è un, un evento, poi ve lo dimenticherete, c'è una situazione di tensione, in cui lei, ancora sente che qualcuno la guarda, qualcuno la segue, si guarda intorno, Cosa succede? Stacco, bam, c'è un'inquadratura molto vicina di lei, di fronte al binario, e la metro passa velocissima, non gli passa vicina, nel senso, la poteva uccidere, no, no, passa semplicemente, ecco, questo è un jump scare, accompagnato anche con un effetto sonoro, dell'ammetro che passa, un po' di musica che si accentua, è un jump scare, quasi funzionale, all'intrattenimento dello spettatore, cioè serve, allo spettatore, che la tensione, venga smorzata, e distrutta, perché solo così, si può ricostruire, di nuovo, la tensione, per la cosa dopo, l'obiettivo che abbiamo dopo, questo per dire, a tutti quelli che, sono convinti, che il jump scare, sia il nemico, no, il jump scare è uno strumento, non è, una cosa cattiva, è uno strumento, che si usa, nel cinema, di tensione, nel cinema thriller, e in alcuni casi serve, a, far scendere dalla giustra, in quel momento, lo spettatore, che deve risalire, subito dopo, su un altro trenino, e ricominciare a caricarsi, di tensione, eccetera, eccetera, oppure semplicemente, c'è una fase del film, che fa altre cose, questo era per ribadire, che comunque, i jump scare, non sono il nemico, non sono il nemico, non sono il nemico, che fa altre cose, non sono il nemico, che fa altre cose,